buongiorno amici rossonieri e ben ritrovati a un nuovo video sul nostro canale ac milan inside di youtube andremo a parlare del giorno dopo di questo milan napoli quindi il day after prima di partire con il video vi ricordo di seguire il nostro canale youtube ac milan inside e mettere like a questo video poi dopo vi ricorderò a fine alla fine tutti i nostri canali social allora il day after è sempre più bello la vittoria di ieri probabilmente il tifoso rosso nero non ha ancora capito l'importanza dei tre punti che la scuola di pioli ieri ha conquistato non tanto quando si parla di corsa scudetto l'inter lo sappiamo tutti quanti è nettamente più forte delle 19 squadre restanti del campionato di serie a se i nero azzurri giocano da inter vincono contro chiunque quindi qui non si sta parlando di corsa scudetto però il milan da gennaio quindi l'ultima partita diciamo dopo salerno il milan ha cominciato a correre alla pari di inter e anche juventus ha fatto tutte vittorie e un solo pareggio quello di san siro 2 a 2 contro il bologna ricordiamo che in quella partita pareggio giusto perché il bologna ha fatto una grandissima prestazione a san siro però il milan aveva fallito due calci di rigore con te ornandez e giru e all'ottanta quattresimo era in vantaggio 2 a 1 grazie al gol di testa di love to chic ed è stato raggiunto dai felsini solo al 92esimo sul calcio di rigore da orsolini quindi nonostante il risultato di quella partita è stato più che giusto il mina poteva avere anche due punti più perché diciamo alla fine si era messa nelle condizioni giuste per portare a casa la vittoria e quindi conquistare altri tre punti tornando a ieri sera la prestazione non è stata eccellente ma questo fa parte del milan del di questa stagione qua però è cinico c'è il milan anche quando va sotto è successo a udine è successo a frosinone è andato sotto e ha giocato ha continuato ad insistere ribaltando il risultato e vincendo le partite in rimonta ieri sera invece si ha visto un milan totalmente diverso possiamo chiamarlo un milan stile juve giocato poco tirato poco in porta ha cercato la fase difensiva di farla al meglio per non subire reti perché ricordiamo che il milan ha subito tantissime reti e quindi ieri sera nel primo tempo un tiro in porta un gol proprio 100 per cento di fase realizzativa nel secondo tempo si i primi 15 minuti c'è stato un ossesso palla a favore dei rossonieri però il napoli non ha demeritato perché il napoli ha colpito due pali ha impensierito maignani in un'altra occasione c'è stato quella maldestra respinta di simice che per poco causava l'autogol infatti è andata a finire sul palo però alla fine il ci fosse stato un pareggio non non si parlava uno scandalo alla fine però è arrivata la vittoria sono arrivati tre punti come dicevo prima probabilmente stile juventus perché la juve vince di corto muso giocando male tirando poco importa ai vincendo le partite ora i bianconeri giocheranno stasera noi siamo a momento a un punto di differenza da loro perché loro 53 noi 52 la juve stasera potrebbe anche vincere la partita a lungarla a questo punto e l'obiettivo del campionato potrebbe essere quello del secondo posto ricordiamo che è l'obiettivo che ti porta a partecipare alla supercoppa italiana nella prossima stagione per il resto se vogliamo parlare di piazzamenti tra le prime quattro il milan anche con la vettura di ieri sera ha ancora di più blindato l'accesso alla prossima c'è più che perché il distacco tra la noi la quinta e classifica e tanto ricordiamo che anche il coefficiente uefa potrebbe fare la sua in questa stagione perché se le scuole italiane continuano andare avanti in europa e quindi conquistare punti il prossimo anno oltre alle quattro di diritto potremmo portare anche la quinta nella massima competizione europea quindi si parlerebbe di un distacco tra noi e la sesta però al momento guardiamo la quinta e poi tutti i calcoli avranno fatti a fine stagione allora ora invece vi dico un'altra cosa vi ricordo tutti i nostri canali social e quindi seguiteci a cimiani 6 del presente su twitch instagram facebook twitter ora x e tik tok quindi seguite oltre a questo canale youtube anche tutti i nostri canali social che vi ho appena elencato grazie a tutti e come sempre forza milan